amiche ed amici di youtube buon pomeriggio sono Andrea Colombini presidente del Puccini e la sua Lucca festival vi do il benvenuto dall'oratorio di San Giuseppe al museo della cattedrale di Lucca per lo streaming del giovedì Puccini e Verdi con noi oggi il nostro soprano Silvia Pacini il nostro tenore Giovanni Cervelli accompagnati al pianoforte dal direttore musicale del nostro festival il maestro Diego Fiorini grazie per le tante centinaia di migliaia di visualizzazioni abbiamo superato ampiamente il milione e duecentomila visualizzazioni complessive dei nostri streaming siamo lieti di potervi essere di ausilio di aiuto e di divertimento in questo momento così particolare e speriamo ovviamente di poter avere presto il pubblico in sala perché senza il pubblico davanti ai nostri artisti non è vero spettacolo ma lo streaming è quello che ci è concesso e lo facciamo volentieri ovviamente è il mio piacere ringraziare tutte le persone che rendono possibile questa meravigliosa esperienza anche in un momento di lockdown primariamente tutto il nostro festival tutti i nostri artisti tutte le nostre maestranze che rendono possibile tutto questo che hanno fatto in modo che il nostro festival fosse e sia al momento attuale l'unica entità in Toscana ad avere lo stesso programma che c'era prima del lockdown e a portarlo avanti senza alcun tipo di cambiamento ringraziamo poi il nostro sponsor tecnico pro music di Marco Banti che rende possibile tutto questo tutti i nostri sponsor istituzionali le fondazioni bancarie e soprattutto lucca promos srl e the lens of giacomo cucini perché giacomo cucini rimane sempre la più grande carta di promozione della splendida città di lucca e di tutto il suo territorio grazie ancora per il supporto che ci date per i tanti commenti e soprattutto per l'amore che percepiamo da tutti i vostri commenti e dai like che date ai nostri streaming siamo contenti di poter essere insieme a voi anche in questo momento di difficoltà l'appuntamento è per domani alle ore 16 e 30 con puccini e mozzart ma per intanto godiamoci il recital di oggi buon divertimento viva lucca e ovviamente viva giacomo cucini grazie a tutti 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 sali non grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti pieto grazie a tutti 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 tu grazie a tutti 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 non si grazie a tutti 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 grazie a tutti